Nuove iniziative imprenditoriali e commerciali ad agrigento. In città è stato inaugurato il ristorante Mille Luci in via Acrone. Vado e vai! Entra la strada! In questa zona è bella, caratteristica. È vicino a San Calogero, vicino alla Basilica dell'Immaconata, Santa Lucia, la Monde di Fatima. Siamo attorniati. Allora, Mille Luci perché è un nome storico della mia famiglia. La famiglia Seminario che nel 1978 hanno aperto un ristorante e le pizzerie al villaggio Mosè. Oggi io sto aprendo questo locale in piazza Stazione, via Acrone numero 5. E l'ho chiamato Mille Luci proprio perché voglio ricordare la mia famiglia negli anni passati e mi fa ritornare un po' bambina, diciamo, perché mi hanno insegnato a fare ristorazione. E da molti anni, già da più di dieci anni che ho dei ristoranti, questo è il secondo che apro, per portare avanti i cibi buoni, genuini. Abbiamo un ristorante con forno a legna, faremo delle pizze gourmet, riso venere, sette cereali e così troverete tantissime altre cose per quanto riguarda la pizzeria. Poi abbiamo una cucina abbastanza buona con degli ottimi chef che vi accompagneranno e prepareranno per voi tutte le pietanze agrigentine dall'amore di terra e di mare, preparati con gusto, con amore dai nostri chef. Bene, io vi aspetto qua in questo locale per venire a degustare tutti i nostri cibi. Grazie.